Il bacio, il bacio è il primo atto di amore, si baciano i bimbi appena nati, si bacia per il commiato, si bacia per amore. Loro non ci possono proibire di amare, non possono proibire ai nostri figli l'amore e se loro continuano così io credo che noi genitori, e mi rivolgo ai genitori anche qui presenti, dobbiamo prendere una posizione visibile perché siamo stufi. La campagna andrà in tutte le più importanti città italiane, è una campagna nazionale, è una campagna per affissioni, quindi è una campagna visibile per definizione e per caratteristica. È una campagna promossa da Arcigè ma non è solo una campagna di Arcigè perché è una campagna che coinvolge attraverso l'adesione, il sostegno concreto e la partecipazione tutte le più importanti associazioni LGBT del Paese e non solo perché c'è l'Arci, c'è la CGL, quindi c'è quella fetta di società civile che vede giustamente nella lotta all'omofobia un impegno di tutta la società civile per la realizzazione delle guaglianze e dell'equità in questo Paese. Nel 2010 abbiamo registrato due casi di omicidio, 39 casi di violenza, 6 casi di estorsione, 2 casi di bullismo, 8 casi di atti vandalici, abbiamo avuto difficoltà nell'accesso alle scuole per alcune associazioni omosessuali e grossi problemi legati alla questione della donazione del sangue. Nel corso invece del 2011, quindi da gennaio ad oggi, abbiamo risultato 8 casi di violenza, discriminazione e insulto e 5 casi di estorsione e di bullismo omofobico. Sicuramente la soluzione è nel ricambio generazionale, questa è una cosa di cui sono promotore pure io e spesso lo ribadisco, dobbiamo puntare sui giovani, sulle nuove generazioni, sull'informazione, provare a scardinare quei falsi luoghi comuni e la falsa immorale che sono alla fine della base della nostra omofobia e della paura verso il diverso, quindi sì, sicuramente puntare sull'informazione verso i giovani è la soluzione al problema. Quindi il 17 maggio è una data che ci deve aiutare a comprendere queste cose, la stampa sappiamo che è molto più avanti di quello che la classe politica vuole far credere rispetto al paese, perché molto spesso la stampa riesce con inchieste, documentazioni, presentazione di statistiche, sondaggi e informazione a rendere e a dare quella informazione che invece è negata dalla classe politica. Grazie a tutti!